Mi chiamo Elena, sono italiana e attualmente mi trovo in Svizzera. Circa un anno fa, inizio luglio 2021, ho avuto la diagnosi di microcitoma polmonare. Non ho nessun supporto vitale per vivere, solo una cura a base di cortisone. Mi restava solo da aspettare che le cose peggiorassero. A questo punto, mettendo in pratica una convenzione che avevo già in tempi non sospetti, prima che succedesse tutto questo, ho deciso di valutare la possibilità di terminare la mia vita prima che lo facesse in maniera più dolorosa la malattia stessa. Ho parlato chiaramente con la mia famiglia, ho avuto la comprensione e il sostegno che potevo desiderare. Mi hanno appoggiata, capita, sostenuta. Io ho chiesto aiuto a Marco Cappato perché non volevo che i miei cari, accompagnandomi loro, potessero avere delle ripercussioni legali e potessero essere accusati di una decisione, di avermi stigata a prendere una decisione che invece è sempre stata solo mia. A un certo punto della mia vita io ho dovuto scegliere se trovandomi davanti a un bivio volevo percorrere una strada che era più lunga ma portava all'inferno o se volevo invece scegliere una strada più breve che mi avrebbe portato qui a Basilea. Io ho scelto per questa seconda opzione. Io avrei sicuramente preferito finire la mia vita nel mio letto, nella mia casa, tenendo la mano di mia figlia e la mano di mio marito. Purtroppo questo non è stato possibile e quindi ho dovuto venire qui da sola. Io adesso mando un saluto a tutti quelli che mi hanno voluto bene e mi vogliono bene. Io abrattro tutti. Ciao!